La Sagra Telurano, giunta ormai alla sua ventitresima edizione, si prepara anche quest'anno ad accogliere turisti e visitatori all'evento che si terrà nei giorni 10, 11 e 12 luglio nella piccola comunità di Merine, frazione di Lizzanello. Da sempre a punto di riferimento dell'estate salentina per turisti curiosi e amanti della cucina tipica tradizionale, le novità di quest'anno riguardano tanto i prodotti della Sagra quanto il giorno dell'inaugurazione. Rispetto alle scorse edizioni infatti la Sagra anticipa il taglio del nastro un giorno prima, giovedì 9 luglio, con una serata dedicata al racconto e alla conoscenza della cultura culinaria, dei piatti tipici ma anche all'intrattenimento. La Sagra di Telurano ormai si conferma come una delle sagre più attese dai visitatori, perché dobbiamo chiamarle visitatori, non più turisti, perché il visitatore è quello che si integra pure, quindi che vuole partecipare attivamente alle bellezze nostre e quindi a tutto ciò che riguarda gli aspetti anche della gastronomia. Questa è una sagra che sta fra quelle 7-8 sagre che sono rimaste in Puglia, devo dire, questa viene molto apprezzata. Bisogna dare atto, bisogna dare credito ai cittadini di Merine, al parroco, a tutte le persone che lavorano intorno, che sono quasi 300 persone del luogo, che lavorano e pensiamo bene che non sono i tre giorni che si lavora, i quattro giorni della sagra, ma per questa sagra si lavora 12 mesi all'anno, quindi si lavora tutti i giorni, si prepara, l'indomani che hanno finito smontano in due giorni e cominciano a preparare l'atto per la prossima. Quest'anno all'insegna della tradizione, come già saprete, ci sarà anche questa particolarità, presenteremo un nuovo cereale, questo Tridordeum. Vorremmo che la sagra diventasse sempre più un appuntamento anche per quanto riguarda l'alimentazione, una riscoperta della dieta mediterranea, del mangiare bene. E in questo, anche quest'anno, grazie al GAL, ci stiamo impegnando. La sagra vuole fare un salto di qualità da questo punto di vista. Il mio ringraziamento va a tutti gli operatori, i volontari al comitato, senza dubbio, ma alle centinaia di persone che in questi giorni offrono gratuitamente la loro mano d'opera, si impegnano per la buona riuscita della sagra. E anche ringrazio l'amministrazione, sia l'amministrazione comunale, sia anche quella provinciale, perché grazie alla sinergia con le istituzioni che noi riusciamo a mantenere viva questa tradizione e anche ad accrescerla ogni anno di più.